Non si può pensare che nel giro di pochissimo tempo, per esempio a Roma, hanno ideato una ZTL che è enorme, cioè che praticamente comprende tutto quello che sta all'interno del grande raccordo anulare. Ora, addirittura, vabbè, poi l'hanno bloccata perché altrimenti era troppo impopolare, ma cioè dall'anno prossimo non potevano entrare neanche i diesel Euro 5. Ma ci rendiamo conto che poi con questo sistema, cioè le persone per bene che lavorano non possono entrare e tornare a casa loro, ma noi sappiamo benissimo che i malintenzionati viaggiano tranquillamente da ogni parte, quindi anche quest'idea terrificante della città a 15 minuti, della città a 15 minuti, cioè la città a 15 minuti, secondo me, loro dicono devi avere tutto quello che ti serve a 15 minuti, per l'amor di Dio, va benissimo, ma non deve diventare un mantra questo perché non debba andare in macchina, perché debba andare assolutamente a piedi, perché le persone hanno bisogno di muoversi, cioè l'automobile è libertà, cioè il fatto stesso, nel libro lo scrivo, cioè loro lo dicono chiaramente perché l'obiettivo loro è quello di, e quando dico loro, loro, dico loro che sui vaccini eravamo d'accordo, però vedi Stefano, vedi, quei loro che ci piagavano e ci trituravano i testicoli con i vaccini e con gli obblighi vaccinali, sono gli stessi che ti propongono, che ci propongono, anzi ci impongono queste ricette fallimentari, allora te non puoi stare con loro, te devi guarire, io sono qui per farti guarire, affidati a me, affidati. No, io sono per una terza via, cioè quello che si preoccupa per l'ambiente ma si preoccupa anche per la fine del mese, vedi, si può fare tutte e due le cose insieme, volendo si può fare, il problema è che non te lo fanno bene. Ma l'ambiente, sono d'accordo anche io, e il clima è proprio, non me ne frega niente del clima, che piova, che c'è il sole. Ma quello è tempo però, la differenza tra tempo e clima è tempo. Ma vedi, sono d'accordo, però ogni volta che succede qualcosa sono quelli che dicono la differenza tra clima e meteo che mescolano clima e meteo, perché, cioè, ma ha senso, se arriva un'alluvione in Emilia Romagna si dà la colpa. No, ma che l'hai nastrozzato dai. Prima facciamo le casse di espansione, draghiamo gli atti dei fiumi, rafforziamo le argini, sono queste le cose da fare. Assolutamente. Non la banda elettrica. No, 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 ma quella si è una nastrozzata e soprattutto da quando andavo all'università, quindi ero giovane, a Scienze Geologiche, che si parla di rischio idrogeologico che si deve, sul quale si deve intervenire, no? E non è mai stato fatto. Eh, caspita, quella è una cosa seria, quella è una cosa seria, perché ce ne accorgiamo, quella è una cosa seria, perché quella si ne va veramente della nostra sicurezza. Però non è che una cosa esclude l'altra, ecco, questo ti voglio dire, si può fare e si deve fare. Eh, ma le due narrazioni, spesso e volentieri, il politico, quando parla del cambiamento climatico, lo usa come alibi per dire, eh, io, è colpa del cambiamento climatico, fai le casse di espressione. L'alluvione, certo, ci sono sempre state alluvioni. Eh, certo. Quando ero bambino, la 500 di mia mamma è finita in mare dalle parti di Genova, per dire. Eh, certo, certo. Ah, stavi a Genova te? Abitavo da quelle parti, sì. Ah, no, Genova è una città piagata, perché effettivamente... C'ha le montagne subito dietro, quindi... Genova è la città più infelice quanto a posizionamento. Un saluto ai genovesi, perché ero a presentare il libro proprio a Genova la lunedì scorso, e ho assaggiato il pan dolce, che è buonissimo, è un dolce genovese, pan dolce si chiama, e poi trenette al pesto, quindi un saluto agli amici di Genova. E la farinata? La farinata? Mi hanno detto è buonissima e non l'ho mangiata. Eh, ma devi mangiare la farinata. E poi non capisco perché i genovesi insuppano la focaccia nel caffellate. Ma che sei mati? A questo mi scusi. Sì, fanno la colazione, la chiamano pocciare, cioè prendono la schiacciata, la focaccia, come la chiamate qui a Roma? La pizza bianca, la schiacciata, la focaccia. Cioè che è buonissima, buonissima, buonissima. Cioè fanno il salato? Sì, è salato, e la insuppano nel cappuccino. La insuppano nel tè. E addirittura vedono, nel tè no, te ci insuppi la schiacciata e c'è le goccioline d'olio, hai visto? Si formavano, siete mati. No buono, no buono, no buono. Tra l'altro scusami, adesso lo sai che in questo ponte lungo dell'Immacolata un sacco di gente va a sciare perché le stazioni sciistiche sono tutte aperte a pieno regime? E quindi il cambiamento climatico? Oh, non faceva caldo! Oh, non faceva caldo! Oh, no, no! Te non vai a sciare? Eh no, devo lavorare, devo stare qua a lavorare. Capito, capito. Ti rode, ti rode, ti rode! Ecco perché ti rode che gli altri vanno a lasciare e te no. Fabio, io ti dico, la terza via è questa. La terza via è che se io voglio l'elettrico, mi scelgo l'elettrico. Se non lo voglio, non me lo devono imporre. Cioè, praticamente la stessa cosa che valeva per i vaccini. Esattamente questo. L'obbligo, io odio l'obbligo. Esatto, esatto. Il principio, si chiama quello che dici, principio della neutralità tecnologica. Cioè, io mi pongo un obiettivo, ridurre le emissioni di CO2, qualunque esso sia, mi pongo questo obiettivo. Ci posso arrivare con l'auto elettrica, ci posso arrivare con l'auto alimentata a biodiesel. Guardate perché il biocarburante... C'è anche l'idrogeno, tra l'altro. E' soltanto che, non ne abbiamo parlato nel libro, l'idrogeno, cioè la vera... E qui vale la pena di spendere un minuto, un minuto soltanto per questa cosa. Si affacciano due tipi di carburanti, il biocarburante e l'idrogeno. L'Italia è molto forte nel biocarburante, però viene ostacolata da chi? Dai tedeschi, che vogliono il carburante cosiddetto sintetico, che è l'idrogeno. Qual è la differenza? E' che il biocarburante può essere prodotto e Eni ha delle tecnologie e un know-how veramente straordinario in questo senso, ed è una realtà italiana, mentre invece il cosiddetto idrogeno sintetico deve essere prodotto in laboratorio e si spende 10 di energia per estrarre uno con la tecnologia di oggi. Per questo non si deve imporre niente, ma semplicemente lasciare che la competizione, la tecnologia, la creatività dell'uomo possa dare il meglio. Perché quando l'uomo viene messo nella condizione... L'uomo è la donna! L'uomo... Non voglio dire... Il sapiens. Ecco, l'uomo sapiens. Il sapiens, il sapiens, come dice il tuo amico Tozzo. Esatto. Siamo venuti da tanto tempo. Lui non piacerà questo libro. Preparavamo gli esami insieme, quindi sicurati. Bene, bene, bene. Comunque l'importante è confrontarsi. Fabio Dragoni, per non morire al verde, pubblicato da Il Timone, con la controprefazione di Chico Testa. Grazie di essere venuto qui da noi. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, ciao.